Prosegue l'intensa attività di repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti e di reati adesso connessi da parte dei carabinieri che questa mattina in tutta la città ed in provincia hanno compiuto operazioni nell'ambito di alto impatto. Il bilancio è sorprendente, sei persone arrestate, quattro delle quali dopo essere state sorpresi in uno scantinato nella zona di Napoli di via Romolo e Remo mentre confezionavano dosi di cocaina e marijuana per due persone. Il locale era protetto da tre porte blindate, due barriere di metallo e due grate che sono state rimosse dai carabinieri e dai vigili del fuoco che hanno anche sequestrato un sistema di videosorveglianza delle aree di spaccio composto da sei microtelecamere, una centralina e un televisore da 32 pollici. All'attività nella zona di Melito hanno preso parte i militari della compagnia di Giuliano in Campania, del battaglione Campania, del nucleo cinofili di Napoli e un elicottero dell'elinucleo di Ponte Cagnano in provincia di Salerno. Nel corso del blitz sono state eseguite 46 perquisizioni in abitazione e 17 veicolari, identificate 163 persone di cui una sessantina pregiudicate e contestate 43 violazioni del codice della strada, combinate multe per circa 30.000 euro, sequestrati anche 10 kg di sigarette di contrabbando, demoliti un canile in lamiere e una cappella votiva erette in onore della Madonna dell'Arco, entrambi abusivi.